c'è una grande novità oggi e ne parleremo dopo la sigla a meno che non siate sul canale youtube e quindi state già vedendo questa grande novità ho fatto un po di spoiler è vero dicendo questa cosa ma non importa parleremo di effetto danni in kruger in questo episodio è la novità direte voi beh certo ve la dico ve la dico dopo la sigla questo è parola di life coach parola di life coach il podcast di carlo loiudice pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore benvenute e benvenuti come sempre in parola di life coach il podcast del miglioramento personale io sono carlo loiudice e come sempre vi tengo compagnia ogni mercoledì su tutte le piattaforme ma e questa è la novità questo episodio di podcast è anche in video è disponibile anche in video sul mio canale youtube che è carlo loiudice coach e sicuramente avrete già visto delle pillole video che ho postato sui vari mi trovate sempre come carlo loiudice o facilmente attraverso il mio sito che è carlo loiudice punto com che bello rivedervi qui oddio voi vedete meglio non vedo voi ma io vi percepisco e so che ci siete perché ogni tanto poi mi scrivete e perché alcuni di voi sono anche diventati miei clienti nel tempo e perché quelle rarissime volte che non sono riuscito ad andare in onda con l'episodio vi siete subito lamentati come siete esigenti però mi piacete così belli esigenti perché mi date anche la forza di continuare con questo podcast perché piace se no altrimenti nessuno si accorgerebbe quando non lo posti parlavamo di effetto danni in kruger di che cosa si tratta è un fenomeno psicologico che riguarda quelle persone che hanno competenze inferiori rispetto alla propria percezione che cosa vuol dire detta in maniera molto semplice che non si rendono conto di non essere in grado di fare quello che fanno ma continuano a farlo facciamo un esempio pratico in un campo che mi riguarda in particolar modo che è quello del public speaking ci sono tanti speaker che per esempio non hanno paura di parlare in pubblico oppure parlano in pubblico da tanti anni e conoscono bene l'argomento e sono convinti di saperlo fare spesso però quando mi è capitato di vedere alle delle conferenze questo tipo di speaker ti rendi conto che sono di una noia mortale non sono aggiornati nel modo di comunicare che è vero conoscono bene l'argomento non sempre perché anche lì potrebbe potrebbero essere affetti dalla sindrome di danni in kruger ma non sanno comunicarlo perché perché non si preparano il pericolo di questo tipo di percezione distorta è che tu credi di saper fare di essere in grado di poter fare qualcosa la fai e non ti rendi conto che ottieni risultati disastrosi questi risultati disastrosi prima o poi ti porteranno a schiantarti o a vivere una delusione e nel frattempo comunque fanno sì che tu accumuli frustrazioni perché quello che poi metti in campo non ottiene i risultati hai una scarsa lettura o una lettura distorta dei risultati che ottieni e continui a perseverare nell'errore non individui per esempio quelle che sono le aree di miglioramento e che individueresti come ascoltando i feedback se qualcuno ti dà un feedback negativo tra virgolette devi ascoltarlo soprattutto se quel feedback se quello stesso feedback ti viene dato da più persone vuol dire che quello che stai facendo probabilmente merita un'attenzione che ci sono semplicemente dei cambiamenti da fare il punto è che quando otteniamo un feedback negativo veniamo colpiti nell'ego tendiamo ad entrare nella difensiva o addirittura ad attaccare che ci dà un feedback invece bisognerebbe solamente ascoltarlo e poi valutarlo non è detto che il feedback sia giusto però lasciatelo sedimentare pensateci su cercate di capire se la persona è riuscita ad individuare o ad aiutarvi ad individuare quella che è un'area di miglioramento un altro modo per individuare quelle che sono le aree di miglioramento nella nostra vita nella nostra attività è quella di rivolgersi a un coach perché perché attraverso il dialogo con il coach e attraverso soprattutto grazie soprattutto alle domande che il coach vi rivolge hai la possibilità di avere dei punti d'osservazione diversi sulla tua vita e questo fa sì che tu possa ampliare il tuo sguardo e renderti conto che magari per esempio sprecando una serie di energie quando potresti risparmiarle quelle energie e investirle in altro a volte sono anche risorse economiche investite male prendiamo per esempio anche tutto il produrre video o contenuti sui social media che non sempre portano i numeri desiderati o producono l'effetto desiderato per esempio trovare nuovi clienti quante persone postano continuamente ma non vedono i canali crescere e allora bisogna capire perché questo succede bisogna capire se quello è il canale giusto per il tuo business per la tua attività il rischio è sempre quello di fare tanto di girare la ruota di laboratorio come se fossimo dei topi da laboratorio invece non si tratta di fare di più il fare di più porta al burnout all'esaurimento no si tratta di agire diversamente di agire in maniera smart con intelligenza ve lo dico anche sulla scorta di un'esperienza personale mi è capitato un paio di volte di aver avuto un burnout di aver lavorato troppo perché quando lavori troppo non ottieni più i risultati che vuoi perché chiaramente sei stanco e quindi la qualità del tuo lavoro e le energie diminuiscono e allora continui a spingere spingere quando in realtà dovresti fermarti prendere una pausa farlo con qualcuno come ho fatto io che ti aiuta in maniera molto semplice ad avere uno sguardo diverso sulla tua vita se sei però affetto dalla sindrome di danning kruger nella versione di sovrastimarsi allora sarà molto difficile se conoscete questo tipo di persone sarà molto difficile che loro si rivolgano ad un coach perché non si rendono conto non hanno il principio di realtà continuano a fare lo stesso errore finché non si schianteranno in senso buono chiaramente speriamo e solo allora forse capiranno che hanno bisogno come tutti noi dell'aiuto dell'altro non siamo soli e pensare di dovercela fare da soli come solitari perché magari questo ci è stato sempre raccontato perché siamo vittime di un pensiero limitante di alcune convinzioni e devo farcela da solo devo riuscire da solo ecco questa è una credenza limitante non apporta nessun valore il farcela da soli e avere il supporto di un coach non significa che ti il coach fa il lavoro per te no comunque lo farai da sola o da solo il coach è solamente una sorta di spalla di partner di osservatore esterno che ti aiuta a vedere la tua situazione lavorativa la tua situazione sentimentale la tua vita da un altro punto di vista quindi hai un obiettivo puoi analizzare questo obiettivo capire se quell'obiettivo è giusto o se da anni stai perseguendo l'obiettivo sbagliato e una volta che hai definito quell'obiettivo cominciare a pianificare delle strategie e poi metterle in atto per raggiungere quell'obiettivo guardate che è molto più facile in questo modo e significa risparmiare energie risparmiarsi sofferenze significa dare una svolta alla propria vita ve lo dico perché questo è successo a me prima che cominciassi a fare il coach prima che decidessi di diventare coach è successo a me quando per la prima volta ve l'ho già raccontato per la prima volta ho assunto una coach alla fine del percorso mi sono detto perché perché non me l'hanno detto 25 anni fa avrei evitato una serie di errori ormai sono fatti avrei risparmiato un sacco di energie avrei fatto delle scelte più utili alla mia vita però l'ho scoperto più tardi ma meglio tardi che mai perché non è mai troppo tardi ecco adesso abbiamo messo insieme una serie di frasi che sono però vere non è mai troppo tardi quale è il momento migliore per piantare un albero dieci anni fa sicuramente ma se non l'hai fatto dieci anni fa il momento migliore è oggi devi piantarlo adesso perché ogni mese ogni anno che passa significa che quell'albero per crescere ci impiegherà comunque dieci anni e che potrai vederlo tra dieci poi tra dodici tra quindici tra venti anni se non lo fai subito e allora pianta il tuo albero il tuo semino nella tua vita metti i piedi per terra cerca di comprendere quali sono le tue aree di miglioramento non ostinarti a farlo da sola o da solo perché scoprire le proprie possibilità il proprio potenziale e vederlo finalmente esplodere vedere esplodere questa energia credetemi è davvero bello mi piace quando lo vedo nei miei coci mi piace quando succede a me di poterlo fare e come oggi è che parola di life coach raggiunge un nuovo gradino quello del video non prometto di farlo sempre ma spesso su youtube troverete anche il video di questo podcast io non posso vedere voi voi potete vedere me insomma è già qualcuno fa metà strada non mi sembra male vero ricordatevi di recensire questo podcast scrivete mettete delle stellette dei mi piace a seconda della piattaforma che state utilizzando fatelo su su altre piattaforme se l'avete fatto su una perché questo fa crescere la nostra comunità io vi ringrazio sempre per la fedeltà perché mi scrivete perché quando non posto allora subito arrivo un messaggio è come mai il podcast non c'è questo mercoledì insomma mi date la forza di andare avanti con questa grande avventura che è parola di life coach parola di life coach il podcast di carlo lo iudice pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore chiudete chiudette 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 Grazie a tutti